Un bilancio di trincea questo che abbiamo messo in atto, un bilancio che riesce a mantenere inalterati i servizi nonostante tutto, nonostante la diminuzione del trasferimento dello Stato, alle regioni, nonostante la diminuzione dell'ICI e nonostante una crisi generale che sicuramente farà diminuire l'entrata del Comune, con dei piccoli sacrifici chiesti a una parte dei cittadini, nell'adeguamento del contributo del volumenza e un discorso a parte della nettezza urbana perché facciamo un investimento per il futuro rispetto a quello che deve essere una città capace di raggiungere una quota di riciclata conforme a una città importante quale Cortamare. Un bilancio che riesce a prevedere più di 11 milioni di euro di opere pubbliche per il 2009 con a carico delle casse comunali soltanto il 20% in mutui. Questo è il sunto di un lavoro enorme che abbiamo svolto in questi ultimi tre mesi di cui ringrazio gli assessori e la struttura comunale.